Non pensate che se non gioca a Fletcher diventa tutto più facile. Può diventare facile se siamo bravi a controllare gli imbalzi, come è successo. La cosa più importante era quella di controllare gli imbalzi. Più tatticamente cambiava tanto perché loro con Fletcher fanno cambio a tutti, cambio a tre. E ti chiudono un sacco di vantaggi che puoi ottenere. E lì abbiamo aggiustato un po' prima della partita, quando abbiamo saputo. Stava andando bene, ma anche nel primo tempo, invece di essere più 16, con i tiri liberi eravamo solo più 10. Lì, inizio del terzo e quarto, uguale al contrario. Entriamo invece di andare sull'obiettivo del gioco chiamato, che era tiro per EJ o tiro per Panni, tiravano quelli che non dovevano tirare. Lì c'è da lavorare tanto. Però, ecco, erano di quelle partite che contava solo il risultato, almeno per noi. Non abbiamo ribattato la differenza canestri, perché alla fine abbiamo perso di tre di là. Però contava vincere e mettere a rompere anche con le ultime tre. Perché dopo il tsunami erano tre partite giocate. Giocate. Grazie. Grazie.